È sulle case di comunità previste negli interventi del PNRR Missione 6 che guarda anche alle centrali operative territoriali, agli ospedali di comunità, che l'Associazione APS e Noi per la Salute e Tinan Selmi chiede un incontro per ricevere chiarimenti dalla Direzione Generale dell'ASP di Caltanissetta. Il riferimento alle case di comunità, dicono i rappresentanti dell'Associazione, sono indicate come sedi Mussumeli, Caltanissetta, Riesi, Mazzarino, San Cataldo e Niscemi da allocare in strutture già esistenti e tre sedi in strutture nuove, individuate nelle città di Sommatino, Gela e Serra di Falco. Proprio l'Associazione Noi per la Salute avrebbe constatato l'assenza di una casa di comunità per le esigenze sanitarie della zona della provincia che comprende Santa Caterina, Resuttano, Marianopoli, Vallelunga e Villalba. E quindi chiedono alla Direzione Generale dell'ASP quali siano stati i criteri che hanno indotto alla decisione di considerare la possibilità di dotare quella zona che già vive di disagi ed è costituita prevalentemente da una popolazione anziana affetta per lo più da patologie croniche, sia per mobilità che per dotazione di servizi, di una casa di comunità da allocare all'ex ospedale Castelnuovo di Santa Caterina che è di proprietà dell'ASP. Sempre l'Associazione non condivide la decisione dell'ASP che prevede tre case di comunità nell'ambito territoriale di Riesi, Mazzarino e Sommatino ed ha proposto il riferimento alla programmazione degli ospedali di comunità vista la particolare situazione del territorio anche per i dati epidemiologici della popolazione che l'ospedale fosse individuato dove vi era all'interno quello dell'ospedale Maria Immacolata Longo di Mussomeli. Sulla questione il Direttore Generale dell'ASP ha dichiarato su questo aspetto il quadro è chiaro il programma PNRR è definito con tutti i sindaci ed approvato dalla Regione dobbiamo solo attuarlo nelle modalità e nei tempi previsti dal piano stesso.